Musica Si svolta presso la sala consigliare della provincia l'Assemblea dei Sindaci della provincia di Teramo all'ordine del giorno la sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso valutazione ed azzenamento dei rischi di incidenti connessi ad attività potenzialmente interferenti La convocazione dell'Assemblea è stata decisa dal presidente di Sabatino dopo aver ascoltato i sindaci e le associazioni ambientaliste in vista dello svolgimento all'interno del Laboratorio Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso l'esperimento SOX gestito da un pool internazionale di istituti di ricerca esperimento che prevede l'utilizzo di fonti radioattive Abbiamo chiesto alla Regione di velocizzare le procedure finalizzate al reperimento delle risorse alla progettazione e poi alla realizzazione degli interventi che mettono in completa autonomia e senza interferenza tutto il sistema acquifero dai tratti autostradali e dai laboratori del Gran Sasso Abbiamo anche chiesto in questa fase in cui comunque c'è una problematica di interferenza ovviamente non di rischio che anche esperimenti assolutamente legittimi ma che prevedono l'uso di sostanze pericolose siano sospese, non siano comunque effettuati e anche la riduzione del rischio attraverso il trasferimento di tutto quel materiale pericoloso che è stoccato ma che non è magari immediatamente utilizzato Ovviamente preoccupare sempre il laboratorio del Gran Sasso è una situazione su cui bisogna fare ancora molta chiarezza No, no, il laboratorio non preoccupa naturalmente il bene primario è l'acqua c'è un sistema importantissimo per la nostra provincia c'è la consapevolezza che vanno fatti dei lavori di ulteriore messa in sicurezza e quindi in questa fase sicuramente si può chiedere di limitare tutti gli esperimenti che sono tanti eliminando quelli che prevedono l'utilizzo di sostanze pericolose non è una questione contro la scienza assolutamente no il laboratorio dell'istituto è un'eccellenza in Italia è uno dei pochi istituti diciamo anche riconosciuto come distruzione superiore vogliamo però che tutto questo avvenga in condizioni di sicurezza per tutti, comprese le persone che lavorano nei laboratori Sono quasi 68 milioni di euro stanziati per l'acquisto di 427 immobili invenduti per fronteggiare l'emergenza abitativa causata dal terremoto alloggi che verranno acquistati da parte della regione Abruzzo grazie ai fondi della protezione civile nazionale si tratta di appartamenti ad uso abitativo mai occupati disponibili in 17 comuni abruzzesi se nel cratere sismico e 11 fuoricratere e di cui 13 della provincia terramana a Teramo sono 223 gli alloggi che verranno messi presto a disposizione e che permetteranno di far tornare in città un importante numero di famiglie ad oggi ancora ferme sulla costa un provvedimento che noi accettiamo con grande piacere perché sicuramente era una delle cose che facevamo più fede e che aspettavamo da tempo è una soluzione secondo noi buona decisamente buona perché consentirà a chi ha oggi ancora alloggi sulla costa e magari in una condizione anche di precarietà di poter entrare in degli edifici nuovi che sono a norma rispetto a normative sismiche che hanno ovviamente una buona fruibilità e questo consentirà anche ovviamente a queste persone di poter rientrare nel capoluogo per cui questo è un motivo in più che ci dà soddisfazione perché va comunque a impattare anche sul problema dello spopolamento e della desertificazione del centro storico conseguente ai danni da sisma Ovviamente si spera che entro il 2018 verrà completato tutto l'iter Si spera che questo adesso sì immagino sia uscita ieri la gradatoria adesso ovviamente bisogna vedere sono 220 alloggi circa per Teramo città per cui è una iniezione importante anche di fiducia rispetto alla cittadinanza ma soprattutto credo che sia utile anche in chiave prospettica perché poi ricordiamo che nella misura in cui ci sarà la rimessa in prestino degli immobili soggetti a danneggiamento poi i proprietari ovviamente lasceranno queste abitazioni e torneranno alle proprie e quindi queste abitazioni nel medio e lungo periodo poi diventeranno le proprietà del Comune dando anche una risposta importante a tutta l'esigenza di abitazione che c'è in giro che sappiamo che è un tema molto molto caldo quello della derivizia residenziale pubblica e quello dell'ERP e anche dell'emergenza abitativa per cui sarà una duplice risposta nel medio e lungo periodo che ci consentirà anche di avere poi finalmente degli alloggi disponibili per chi ovviamente in condizioni di indigenza e di disagio può usufruire di questa possibilità per cui la norma sicuramente la ripeto la apprezziamo riteniamo che la Regione abbia avuto un'ottima intuizione su questo ora ovviamente sollecitiamo la Regione sui tempi è molto importante che i tempi siano ristretti perché adesso il bando finalmente è stato pubblicato e la gradatoria che ci sia una velocità anche di assegnazione di questi immobili presentato dall'Adso di Teramo Airculture un progetto pilota di quasi un milione e duecentomila euro volto alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico lungo la SS80 del Gran Sasso d'Italia che collega Miternum ad Interamnia che nell'ultimo decennio ha preso il nome di strada maestra del Parco ricalcando il percorso dell'antica Via Cecilia e toccando importanti località del territorio dunque un progetto la cui finalità è quella di sviluppare un approccio più sostenibile al turismo mitigando la pressione dell'alta stagione con un'offerta integrata delle destinazioni e sfruttando le potenzialità degli altri mesi dell'anno per la fruizione dei beni culturali presenti nel territorio questo è un progetto pilota presentato dall'Azio e cofinanziato quindi per la realizzazione e la valorizzazione del patrimonio culturale della regione realizzeremo un centro un infopoint nella costituenda casa dello studente di Viale Crucioli per consentire quindi di valorizzare il patrimonio artistico della città nello specifico quello del teatro e i due teatri quello di Amiternum e quello di Teramo saranno quindi virtualmente collegati da questo percorso culturale nella costituenda residenza universitaria di Viale Crucioli collocheremo anche realisticamente uno spazio espositivo una pinacoteca di concerto con l'università di Termo e quindi quella realtà quella residenza universitaria diventerà uno spazio culturalmente attivo dinamico offerto non solo agli studenti ma anche alla città l'occasione per creare ulteriori borse lavoro per i ragazzi e quindi l'occasione sia parte economica ma anche professionale per accrescere e avviarsi nel mondo del lavoro le risorse sono interessanti sono 1.170.000 per tutti i partenariati sono 7 partner si creerà una sorta di club sostanzialmente tra i partner per promulgare e per creare questo territorio e destagionalizzare il territorio che è l'Adriatico poi il nostro è un tassello all'interno di un progetto più articolato e questo tassello partecipando a questo club sostanzialmente promuoverà questa parte dell'Adriatico a livello europeo e mondiale per creare dei pacchetti turistici per destagionalizzarli l'obiettivo è quindi di creare questo percorso che è virtualmente collega ma anche fisicamente collega l'Amiternum con Interamnia sulla X-Statara 80 e su questa X-Statara 80 si creeranno dei pannelli con dei Q-Code per la possibilità di poter vedere nel raggio di circa una decina di chilometri da questa indicazione cosa c'è da vedere sia in beni culturali che in paesaggistici che in naturalistici e quindi la possibilità di accederci a questo con un percorso che può essere di varie difficoltà in mountain bike in passeggiata in bicicletta o a piedi o in escursione e questo quindi nel valorizzare i nostri i nostri valori naturalistici e beni culturali ma anche per destagionalizzare e rendere più sostenibile la promozione turistica tutto questo avrà come perno poi l'inizio di questa strada che poi collima anche con la redigenda residenza universitaria e quindi all'interno di questo sarà l'ingresso di questa strada che va verso Amiternum e che diventerà l'Info Point i ragazzi verranno come dire utilizzeremo le borse lavoro per coinvolgere gli studenti universitari e quindi farli accrescere insieme a noi su questo percorso tempistiche pensiamo di firmare il contratto per i primi mesi del prossimo anno e quindi conseguentemente poi sono 18 mesi di tempo per realizzare l'opera Continua senza sosta la sua battaglia il sindaco di Notadesco Diego di Bonaventura che torna con forza ad affrontare il tema che riguarda la discarica di Grasciano presente nel suo comune una situazione su cui il primo cittadino torna a chiedere con decisione alla regione Abruzzo di provvedere allo svuotamento dei capannoni dell'impianto di Grasciano soprattutto dopo i recenti sopralluoghi da parte di ASL Arta e Provincia Siamo ancora come anni addietro come la scorsa primavera perché ecco il 27 ottobre c'è stato l'ultimo sopralluogo conciunto di Arta Provincia e per fortuna stavolta la ASL è venuta pure perché si accorge che c'è un impianto di rilevanza problematica per l'ambiente circostante e quel verbale di nuovo confermato che ci sono ammassi di rifiuti ci sono odori molesti e possibilità di inquinamento ecco ho chiesto proprio ieri un incontro alla regione perché esigo dalla regione un'ordinanza di rimozione di tutti i rifiuti io ho una sola richiesta che faccio una sola esigenza come sindaco del mio territorio ma lo faccio per l'intera vallata la rimozione dei rifiuti perché voglio che quell'impianto sia pulito una volta per tutte e poi aspettiamo la buttata giuridica e amministrativa perché è giusto che la giustizia faccia il suo corso ma faccia il suo corso con un impianto che sia pulito e che non crea più problemi per l'ambiente sia per Notaresco che per tutta la provincia di Teramo Anche a Teramo si è svolto l'incontro per celebrare il centenario della rivoluzione sovietica 1917-2017 organizzato nel Terramano dal Comitato Regionale dell'Abruzzo del Partito Comunista un appuntamento che ha visto una buona partecipazione di persone ed ospite ed eccezione il professor Aldo Bernardini docente merito decano dell'Università di Teramo ed ex rettore dell'Università degli Studi Chieti Pescara e responsabile nazionale del Dipartimento Ideologia e Cultura del Partito Comunista Bernardini ha partecipato negli anni in numerosi incontri e conferenze in Russia Germania dell'Est Corea del Nord Libia Iraq e Jugoslavia e ha partecipato al gruppo internazionale per la difesa dell'ex presidente serbo Slobodan Milosevic inoltre è stato l'unico italiano al quale il Tribunale dell'AIA ha concesso per due volte incontrare Milosevic recluso in carcere C'è stata una partecipazione buona a questa nostra manifestazione che vuole ricordare che la rivoluzione di ottobre del 17 con il suo seguito cioè con la costruzione dell'Unione Sovietica e quello che questo ha significato nella storia mondiale è un evento centrale tutta la storia del XX secolo in fondo ruota intorno a questo fatto tra chi la sostiene e chi voleva distruggerla questa guerra inesorabile che si è conclusa purtroppo con la fine dell'Unione Sovietica essenzialmente per una caduta dall'interno e cioè perché appunto la dirigenza è venuta meno la dirigenza sovietica ha il suo compito rivoluzionario in seguito a una serie di degenerazioni che ci sono purtroppo state una situazione su cui bisogna riflettere le nuove generazioni cosa devono capire da quello che è successo devono riflettere sulla situazione attuale in cui si diffonde la falsa informazione che il socialismo è completamente fallito che non può sussistere che quella è una storia finita che il capitalismo non ha alternative noi vediamo che il capitalismo è in profonda crisi e non risolve i problemi del pianeta delle popolazioni delle migrazioni i giovani lavoro precario disoccupazione povertà e così via solo una prospettiva socialista che risorga può dare delle speranze la prospettiva socialista per risorgere deve rifarsi alla rivoluzione dell'ottobre e a quanto è stato costruito la nostra celebrazione a differenza di altre che pur vi sono state è che noi vediamo un nesso indissolubile fra Lenin e Stalin e Stalin nonostante le criminalizzazioni le demonizzazioni resta un grandissimo dirigente la cui funzione principale è stata appunto quella della costruzione di un mondo nuovo che fino a che c'è stato Stalin è stato un mondo vittorioso in crescita la Repubblica Sovietica come riconobbe lo stesso Churchill pur nemico del comunismo era passata dall'aratro all'arma atomica sotto la guida del partito bolshevico e di Stalin e questo deve essere una prospettiva ci sono state poi tutte le rivoluzioni successive da quella cinese coreana vietnamita fino a quella cubana e questo deve indicare una via anche per la nostra gioventù è arrivata dal Ministero dell'Interno delle Finanze un'ottima notizia per il primo cittadino di terra Maurizio Brucchi che gli permette di poter continuare il suo mandato almeno fino alla fine dell'anno il documento infatti inviato dal Ministero consente ai primi cittadini rientranti nel cratere sismico una proroga fino al 31 dicembre 2017 per l'approvazione del bilancio un'ottima notizia per Brucchi che avrà a disposizione più di un mese di tempo per provare a mettere una toppa alla sempre più precaria situazione che si è venuta a creare dopo l'abbandono della maggioranza da parte del gruppo dei consiglieri gattiani di Futuroin a cui si sono giunti anche i tre assessori dell'assessare le cui deleghe tuttavia sono già state ristribuite tra gli assessori senza contare gli ulteriori 20 giorni che in caso di mancata approvazione verrebbero concessi dal prefetto un vero e proprio colpo di scena che permetterà al sindaco Brucchi di avere altro tempo utile per provare a raggiungere i numeri necessari intanto nella ridistribuzione degli incarichi a Mirella Marchese è stata aggiunta la deleghe della pubblica istruzione a Mario Cozzi quelle a lavori pubblici e a Valeria Misticoni le politiche sociali mentre resteranno in mano il sindaco quelle relative alla pianificazione strategica ai rapporti con l'università e le amministrazioni gli organi dello Stato le comunicazioni istituzionali i rapporti con il Consiglio Comunale la protezione civile e la cultura una situazione questa che potrebbe tornare a proprio vantaggio visto che l'assottigliamento della giunta era stata una delle richieste alla base dell'allontanamento di diversi consiglieri scontenti come ci si immaginava erano migliaia le persone giunte a terra per la manifestazione in favore dell'acqua sicura e trasparente un corteo di tutte le età per ribadire la necessità che l'acqua del Gran Sasso sia finalmente messa in sicurezza evitando possibili interferenze da parte dei laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e delle gallerie autostradali evento voluto organizzato dall'osservatore indipendente sull'acqua del Gran Sasso e appoggiato da tutte le associazioni ambientaliste e non solo erano 20 anni che a Teramo non si vedeva una manifestazione così grande per fortuna gli abruzzesi sono scesi in campo un'altra volta per difendere la loro acqua sono venuti qui a difendere il Gran Sasso e la nostra fonte principale di approvvigionamento idrico la cosa più bella è vedere i bambini con gli anziani tutti uniti per un unico obiettivo sì è un clima assolutamente oserei dire felice bambini anziani fra di noi ci sono persone magari che non sono più giovanissime ma che mi ricordo da bambino quando ero io bambino nelle battaglie per il terzo traforo sul Gran Sasso è un momento eccezionale siamo riusciti veramente a mettere insieme tutti ci sono praticamente tutte le principali associazioni ambientaliste ci sono praticamente tutti i comitati e gli attivisti ambientali di tutto Abruzzo ma soprattutto ci sono tanti cittadini di Teramo e questo veramente ci ha stupito una cosa positiva è anche la presenza dei sindaci sono praticamente tutti l'intera provincia che cercherà di fare un ricorso contro i nuovi esperimenti sono venuti compatti se non è potuto venire il sindaco non è comunque mandato un gonfalone il vice o qualcuno delegato praticamente tutta la provincia di Teramo sia come cittadini che come istituzioni oggi è qui questa è una manifestazione che va nel solco delle grandi manifestazioni organizzate negli anni passati è importante far sentire la voce di tutti i cittadini non soltanto dei Teramani perché questo è un problema che riguarda 700.000 abruzzesi ricordiamo che l'acqua del Gran Sasso fornisce un ristoro e dà anche possibilità di creare occupazione e lavoro a tanti territori della provincia di Teramo della provincia dell'Aquila e della provincia di Pescara adesso è importante che i cittadini facciano sentire la loro voce che chiedano la messa in sicurezza definitiva di tutta la situazione dell'acquifero e che ci sia anche maggiore trasparenza rispetto a quello che abbiamo avuto fino adesso c'è stata una grandissima adesione noi l'abbiamo voluto una manifestazione veramente aperta a tutti e non poteva essere diversamente perché l'acqua è un bene che riguarda tutti chiaramente a tutti chiediamo poi di impegnarsi concretamente da domani da dopodomani perché questa battaglia sia condotta e portata a termine in maniera vittoriosa se non ci dovessero essere delle risposte dell'immediato questo è solamente l'inizio certamente noi portiamo avanti questa battaglia ricordo dal 2002 quando per primi segnalammo che c'era il problema delle interferenze fra laboratori gallerie e acquifero non siamo assolutamente intenzionati a lasciare perdere sono stati persi moltissimi anni è necessario fare ora adesso da domani qualcosa di concreto per mettere in sicurezza il Gran Sasso la messa in sicurezza si fa togliendo le sostanze pericolose da dentro ai laboratori di fisica nucleare molti esperimenti sono tranquilli però ce ne sono due con grandi quantità 2300 tonnellate di idrocarburi all'interno della montagna uno potrebbe fare anche il miglior tubo possibile però se poi porterebbe l'acqua contaminata in caso di incidente quindi l'importante è togliere la possibile fonte di contaminazione ovviamente poi la follia di portare una sorgente radiattiva potentissima che rischia di creare danni catastrofici per tutta la Bussa e anche per un grande pezzo dell'Adriatico crediamo sia proprio una cosa da respingere immediatamente e perché l'acqua il Gran Sasso di setta 700 mila persone in tutte le province abruzzese che direttamente rifornisce Teramo l'Aquila ma indirettamente anche Pescara e una parte di Chieti quindi insomma noi non possiamo fare a meno dell'acqua la ricerca deve andare avanti ma ha dei limiti bisogna porre dei limiti e qui sono hanno travalicato questi limiti anche perché ci sono stati già incidenti i laboratori fisico-mucleare sono stati inaffidabili in questi anni perché hanno perso il diclorometano ad agosto il trimetilbentene sono stati sequestrati nel passato quindi insomma non è che stiamo dicendo delle problematiche che sono delle teorie purtroppo l'abbiamo visto in pratica peraltro il Gran Sasso è un'area a rischio sismico più a rischio in tutta Europa quindi ecco diciamo che con il buon senso del padre di famiglia bisogna far fare ricerche che sono compatibili con i diritti di tutti questi cittadini e di quelli che insomma ricevono l'acqua e vivono grazie a questo tutto questo problema è uscito ultimamente grazie a una segnalazione anonima che poi noi abbiamo verificato questo la dice lunga anche sulla trasparenza sulla totale assenza di trasparenza e anche di partecipazione le autorizzazioni sono state date in maniera peraltro abbastanza abborrocciata perché basta dire che al Comune di Soria del Gran Sasso dove ci sono i laboratori nessuno ha avvisato niente e lo dovevano fare secondo la legge quindi ci sono secondo noi plurime illegittimità una per tutte la legge vieta il testo unico dell'ambiente vieta lo stoccaggio di materiale radioattivo e pericoloso entro una fascia di 200 metri alle captazioni ma là la captazione è proprio dentro i laboratori quindi peraltro c'è proprio una violazione di legge che a noi appare incredibile e la regione Abruzzo non può riuscirne io lo ripeto la posizione di Lolli diciamo è molto parziale risolverebbe una minima parte dei problemi cioè mettere a posto i tubi che pure bisogna fare non risolve il problema principale cioè in caso di incidente si inquinerebbe tutto l'acquifero e allora quei tubi rifatti porterebbero acqua inquinata e qui sarebbero inservibili quindi noi dobbiamo evitare che si inquini l'acqua e come si fa togliendo le sostanze pericolose questa è l'unica strada che noi conosciamo per rendere veramente sicuro l'acqua e il Gran Sasso noi abbiamo attenzionato questo territorio dalla lotta contro il terzo traforo addirittura con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare il nostro primo intervento risale a ben 31 anni fa quindi a testimonianza di un'appartenenza anche a questa dimensione territoriale oggi dobbiamo capire che bisogna uscire da questo vecchio paradigma di gestione delle attività non esiste un interessamento superiore a quello che va oltre il bene comune ed è rappresentato appunto dalla tutela dell'acqua ovviamente la messa in sicurezza non riguarda solamente i laboratori ma anche l'autostrada sì noi ci troviamo nella situazione in cui uno degli acquiferi più importanti quello del Gran Sasso convive con la società autostrada e con l'Istituto Superiore quindi da qui la logica di rispettare i protocolli messi in campo e di cercare di abbattere il rischio che sono legate a questa convivenza certo è che nel passato i lavori non sono stati fatti con un certo attenzionamento chiediamo una rapida messa in sicurezza dell'area e dobbiamo cercare di ragionare in termini di trasparenza e di partecipazione con tutta la cittadinanza anche per rassicurare quella che è un pezzo importante della Regione Verde d'Europa Il parco è presente purtroppo da dopo la strutturazione sia dei laboratori sia dell'asse autostradale se ci fosse stato prima naturalmente non ci troveremmo in questa situazione adesso è un problema di coesistenza strutturalmente molto difficile il parco ha delle competenze specifiche di tutela lo deve naturalmente non solo ai cittadini e alla comunità identitaria che rappresenta ma anche a livello internazionale in quanto stiamo parlando di un SIC in una ZPS essenzialmente delle strutture così importanti territorialmente per le matrici ambientali tra cui l'acqua che l'Unione Europea le vincola quindi noi nei tavoli tecnici nei tavoli istituzionali rappresenteremo la necessità per come abbiamo già fatto di una valutazione di incidenza cioè bisogna adeguatamente studiare quello che si ha intenzione di fare per verificarne la compatibilità se non c'è compatibilità non si potrà fare e il parco è garante di questa situazione iscriviti al canale